ciao a tutti amici amici benvenuti o bentornati sul canale per un nuovo video allora oggi un video in cui mostro tutte le mie palette come avrete letto dal titolo e approfitto per fare un decluttering perché sono cinque anni praticamente che io non faccio un decluttering per quanto riguarda il makeup l'ultimo l'avevo fatto quando avevo ristrutturato la casa cioè nel 2018 a gennaio del 2018 per cui direi che è ora di fare un pochettino di decluttering ultimamente sapete che con gli ombretti vado un pochettino a periodi ultimamente mi ha ripresa la voglia di truccarmi con gli ombretti per cui vorrei anche fare dei get ready with me per cui ora io vi mostro le palette decluttero quelle che non mi interessano più e di quelle che decido di tenere ovviamente voi mi dite con quali preferite che io faccia i get ready with me poi in base alle preferenze le farò un po' meno tutte chiaramente chi non so se tutti vogliono una palette farò quello insomma terrò conto delle vostre preferenze qui sotto nei commenti e quindi insomma scrivetemelo se vi interessa e io poi faccio i mi organizzo e comincio a fare questi get ready with me per utilizzare per mettere in uso queste palette allora l'ho detto che sono 36 sono tantissime non pensavo di averne così tante sinceramente io non le avevo mai contate e però comunque come vi ho detto qui ci sono palette addirittura che hanno più di cinque anni che non avevo declutterato cinque anni fa per cui va bene comunque c'è un po di tutto lo costa i costi eccetera chiaramente i gusti negli anni sono cambiati per cui c'è un po di tutto allora comincio con farvi vedere questa palette che è un reperto archeologico e che vorrei declutterare però mi dispiace tantissimo perché è una praticamente delle prime palette che ho comprato ed è questa palette di sleek che ho fatto vedere anche su instagram sui toni del nude questa qui si chiamava o naturel 601 a tutti i toni più o meno sì mi sembra più o meno tranne qualcuno opachi sinceramente la trovo un pochettino superata per cui però mi ricordo quando mr daniel makeup utilizzava le palette di sleek per fare i suoi tutorial cui mi dispiace un pochettino perché magari ci sono anche affezionata però non la uso da tanto tempo ragazzi non so neanche come sono messi gli ombretti cercherò di fare qualche swatch chiaramente andrò molto veloce perché sono 36 per cui quindi questa che dite io dico che la decluttero poi questa pure la decluttero è una palette di essence di una collezione vecchissima che si chiama from santa with love mai usata perché ce ne sono alcune che non sono usate anche molte che avevo acquistato prima del lockdown poco prima del lockdown poi dopo sono andata in lockdown chiaramente non mi truccavo più stavo in smart work che non mi truccavo più per cui poi queste palette sono rimaste lì adesso ho ricominciato da poco intendo comunque riutilizzarle dicevo questa qui la decluttero e magari potrei pensare di metterla nella box anti spreco visto che è praticamente intonsa nella box anti spreco che magari prima o poi farò con l'estrazione eccetera come ho detto su instagram i colori sono belli però comunque ne ho di molte più belle per cui posso anche declutterarla e metterla appunto nei nella box anti spreco poi non lo so come pescare da questa pesco un pochettino random ragazze cercando di andare da quelle più vecchie magari poi anche questa la decluttero ragazze è questa palette di revolution pro rock and royal con tutti i toni del viola ci sono anche dei marroni però sono tutti molto brillanti troppo satinati l'avevo comprata che ero molto giovane sinceramente questa la vedo un po inadatta adesso per la mia età per cui magari preferisco regalarla a qualcuno di più giovane anche se viola sono bellissimi per carità ha dei bei colori dovrei provarli sulla palpebra perché questa credo di averla provato una volta non mi ricordo neanche più sinceramente tempo fa anni fa per cui non saprei quindi non lo so penso di declutterarla questo poi pesco un pochettino random questa è la pur beauty di astra questa è carina questa l'ho comprata da poco forse neanche un anno eccola qui questa c'ha dei toni un pochettino sul rosato un dorato questa direi che la posso anche tenere poi andiamo avanti per non avere ne ho tante ragazze poi ci sono anche le ultime acquistate perché ne ho acquistati diverse ultimamente allora poi ho questa di me di mesauda le comunque e le palettine di mesauda a me piacciono molto la petal dream questa qui ci ho fatto anche un trucco ultimamente questa è quella sui toni del viola dovete sapere che ve la apro e mi è venuto fuori un trucco bellissimo questa chiaramente eccola qui me la tengo questa la userò cerco di rimettere a posto e quindi questa è la petal dream di mesauda poi andiamo a questa palette questa la declattero ragazze ed era una palette di pupa con i toni del nude di questa makeup stories spicy news palette di ombretti multi finish era bella devo dire però ne ho altre sui toni del nude sinceramente non è che sì penso che potrei anche declatterarla sì però questo rosso qui questo terra un bel colore devo dire prova bene o altre qualcosa devo declatterare ragazza ho deciso di declatterare quindi questa la declattero e qualcosa avendo su vinted perché vabbè ci sono le palette per esempio costo molto costose che ho acquistato da poco che di cui vorrei disfarmi sinceramente buttarle no ok poi questa la tengo assolutamente a una palette di debalm che si chiama in debalm of your hand eccola qui tratto questa è una palette che ha sia ombretti che blush e ha i pezzi diciamo famosi di debalm come vedete ha il bahama mama con cui si può fare un buon contouring questo blush che si chiama karana 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 cabana boy quest'altro blush che si chiama in stain lot mama e qui ci sono praticamente tutti gli ombretti qui c'è un questi qui sono dei praticamente dei burro cacai dei degli dei gloss in in cialda questa assolutamente la tengo perché comunque ci sono i prodotti viso questi qui io comunque li uso per cui questa la tengo debalm la tengo poi vediamo un attimo cosa allora cerco di andare un pochettino da quelle più vecchie a o due paellette di urban decay e ho la naked honey eccola qui questa qui avevo provato a venderla ma poi non mi era andata in porto la cosa quella qui la ne che pone con tutti questi toni ovviamente sul tono appunto del del miele questo sono indecisa sinceramente la potrei anche declatterare o comunque diciamo provare a vendere su vinted naked honey poi naked cherry questa anche penso che la vorrei vendere e anche se comunque è una bellissima palette ragazze però a ea tra altro i toni che uso io che comunque sono quelli diciamo che mi stanno meglio l'ho usata poche volte sia questa che la naked honey perché queste le avevo acquistate poco prima del lockdown quindi l'ho usato un paio di volte tre volte poi dopo sono rimaste lì però mi dispiace diciamo buttarle mi dispiace assolutamente sono ancora molto buone però magari quelle le vendo su vinted poi cominciavo ad andare penso alle palette che ho comprato più di recente a parte questa ecco mi era rimasta indietro questa credo di revolution pro questa la declattero che è la questa era un dupe di una famosa che non ricordo questa è la new neutral lux shadow palette o comunque io magari dico che questa la declattero però se a voi interessa il trucco magari prima di declatterarla ci faccio un trucco un get ready with me non lo so perché la declattero ragazze perché vabbè i colori più o meno li ho anche in altre palette ma poi questi tutti questi glitter no cioè sinceramente non 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 fanno più al caso mio perché chiaramente ormai sono una vecchia signora non è che mi trucco poi ho la golden roses di mesauda questa qui è una bellissima però questa l'ho usata un pochettino questa bellissima palette sul toni del gold e rosati molto bella devo dir no questa me la tengo palette di mesauda mi piacciono molto poi questa la declattero di essence salut pari e shadow palette tanto comunque queste sono palette che comunque costano molto poco magari la regalo oppure la proposto anche regalare a qualche compagnetta di mio figlio che ormai hanno undici anni e alcune hanno compiuto undici anni cominciano magari coi trucchi così poi vediamo ho la questa l'ho usata molto la first love di clio questa è molto usata però non so se tenerla sinceramente boh è un po vecchiotta non lo so questa sono indecisa ma credo che la tengo comunque first love di clio scusate non di clio poi una paletta detta di molti bellissima con cui io però boh non è che mi trovo tantissimo la palette di mulac in my birthday sweet però in effetti allora questa la tengo però sto pensando di di riprovare a farci un get ready perché devo come devo vedere cioè nel senso questi qui sono troppo brillantinati come colori per me però c'è anche qualcosa di satinato per cui questa qua magari potrei farci potrei devo riprenderla in mano utilizzarla però per il momento decido di non declatterarla ho messo tutto insieme quindi non so quante ne ho declatterate fino adesso forse 5 6 più o meno e questa è in my birthday sweet di mulac queste sono tutte palette che avevo acquistato prima del lockdown che poi sono rimaste un pochettino lì e va bene un'altra che avevo acquistato prima del lockdown è questa di nabla che la dreamy e shadow palette eccola qui questa qui pure sui toni un po del viola questa la tengo assolutamente ci sono dei viola ci sono dei marroncini ci sono dei c'è questo bel bronzo insomma questo qui anche molto bello questa la tengo poi queste penso che ecco adesso andiamo più o meno alle ultime comprate non ultimissime diciamo le ultime negli ultimi due anni sì più o meno sì allora o hanno scusate c'è questa che è una palette di zoeva che è la mini cocoa blend questa l'ho usata abbastanza mi ricordo che c'era un periodo che mi ci truccavo sempre ed era molto bella più che altro compatta carina con questi colori questa la tengo o la declattero boh no la tengo poi queste sono le ultime che ho acquistato questa è la cutie palette di nabla nei toni del nude questa l'ho anche usata ci ho fatto dei trucchi questa la tengo senz'altro eccola qui poi andiamo alle palette di nota la nota dolente cioè le palette di natasha denona che avevo comprato presa dell'entusiasmo e che poi praticamente le ho usate sia poco e poi non mi ci trovo soprattutto con gli ombretti allora questa intenzione di venderle su vintage non tutte però la glam penso che la venderò su vintage quindi la declattero eccola qui va bella conoscete tutti bellissima palette con toni freddi però ragazze purtroppo io non mi trovo con gli shimmer di natasha denona mi fanno proprio mi segnano tantissimo le palpebre questa è una cosa di cui ho già parlato nei video su instagram mi segnano tantissimo le palpebre mi ritrovo a fine giornata con delle crepe su sulla palpebra che non ho non mi ci trovo le potrei tenere per i matt però ho tanti matte in tante altre palette per cui penso che queste qui le venderò la glam penso che la vederò ok quindi la glam questa ve l'ho fatta vedere la retro invece mi piace di più come colorazioni come mi stanno però questa qui appunto però anche qui purtroppo ho il problema con gli shimmer quindi anche questa penso che la venderò vedete utilizzati però però ecco prima che io se volete un trucco con questa a me stanno male questi colori brillantinati però se li volete vedere io lo faccio il get ready with me dopodiché le metterò in vendita poi di natasha denona e ho anche la bronze questa qui questa ragazza l'ho usata poco la dovrei riprendere in mano ma anche qui anzi non l'ho usata per niente ma con questa la dovrei provare la dovrei riprovare e però non lo so forse anche questa la vendo su vinted però voi fatemi sapere quale se volete un trucco con questa magari ci provo anche se boh non lo so la voglio vendere comunque poi come ultime palette grosse di natasha denona la glam face palette allora qui questa la tengo la tengo perché ci so c'è il blush fondamentalmente per il blush questa è la versione light c'è questo bellissimo blush in crema c'è l'illuminante questi due colori non li userei però questi matt per esempio sono molto belli questi sono veramente molto belli i matt si sfumano da c'è i matt di natasha denona mi ci trovo molto bene questi sono troppo brillantinati per me anche l'illuminante un pochettrino troppo too much per me però il blush è bello questa la tengo i matt questi colorini matt marroncini mi piacciono molto questa la tengo poi di natasha denona ne ho due mini e ho la mini nude palette questa la vendo e questa qui appunto con i toni del nude di natasha denona poi ne ho una piccola che è la biba la mini si si la mini no scusate questa è la mini si la biba palette eccola qui con questi toni sempre un pochettino nel sul nude questa la vendo poi qui penso che si mi siano rimaste un po tutte le palette diciamo che ho acquistato veramente nell'ultimo periodo cerco di andare un pochettino in ordine queste ovviamente non le declattero perché l'ho appena comprate quindi rispecchiano a parte questa forse allora questa di huda beauty non mi fa impazzire devo dire è la medium delle come si chiamavano queste la medium nude obsession le queste la usate ma non mi fa impazzire sinceramente però in effetti con questi toni così un pochettino caldi la dovrei ricominciare ad utilizzare ci sono questi toni molto caldi la dovrei forse riprendere in mano farci un make up per vedere un attimo se declatterarlo o meno perché tanto tempo che non la utilizzo per cui non mi ricordo esattamente poi questa assolutamente la palettina di diego della palma di belen ce l'ho da un po da quando è uscita però non la declattero assolutamente perché mi piace moltissimo cioè ci sono questi shimmer qui che mi piacciono tantissimo ne ho già parlato sul canale e anche su instagram cioè tra l'altro mi fanno un effetto bellissimo sulla palpebra non mi si infilano nelle pieghe poi ci sono comunque questi due matte questa l'ho usata tanto e mi piace tantissimo diego della palma comunque mi piace molto poi qui andiamo proprio alle ultime acquistate proprio nell'ultimo anno credo allora nell'ultimo anno acquistato questa vado cerco di andare un po di in ordine temporale questa di dior della linea backstage che è la dior backstage nella colorazione amber neutral questa no assolutamente non la declattero però anche su questo dovrei riprovare a fare dei make up per vedere e poi vediamo eccola qua di charlotte tilbury avevo comprato il quad pilot talk questo l'ho comprato esattamente un anno fa quando sono andata a pisa non mi piace cioè non mi ci sono ritruccata anche ultimamente non a me non fanno impazzire cioè allora gli ombretti come texture mi piacciono moltissimo però non mi fa impazzire non mi fanno impazzire le colorazioni su di me questo oro rosa che mi spegne un po' non un po' antico non mi piace però questa di certo no questa non la butto la potrei vendere non lo so non so però se comunque potrei venderla in queste condizioni perché questa comunque un po' usata quelle di natasha denona magari sono messo un pochettino meglio non lo so comunque la paletta è questa e questa è la pillot talk di charlotte tilbury di charlotte tilbury a questa e poi ho quella che ho comprato ultimamente però vado in ordine allora vi faccio vedere questa l'ho comprata più o meno un anno fa ed è la jackie aina di anastasia anastasia beverly hills eccola qui packaging bellissimo colori un po' particolari ma comunque è una bellissima paletta dei bellissimi colori questa di certo non la declattero tra l'altro di anastasia beverly hills mi piace tantissimo anche quella l'ultima sui toni del verde adesso non mi sovviene il nome molto bella quella paletta poi ho questo quad di dior della linea 5 colors couture queste non le declattero nessuna perché sono belle mi piacciono e mi ci voglio truccare questa è la numero il numero non riesco a vederlo comunque si chiama rouge track palgar perché ha tutti questi toni un po' sul rosato nella parte diciamo esterna della palette e poi il colore interno praticamente è questo rosso un po' terra bruciata su cui volevi farci un trucco però devo capire un attimo come utilizzarlo comunque avevo fatto poco tempo fa un trucco con questa palette con questi quattro ombretti ed è venuto bellissimo per cui no di certo questa non la declattero e poi qui siamo proprio no ancora non alle ultimissime l'ho acquistato vi faccio questa pure più o meno un anno fa questa di zoeva questa anche molto bella ed è la palette sui toni del verde together we grow eccola qui bellissima no no questa assolutamente anzi voglio provarci a fare un get ready with me con queste qui perché questa è veramente molto bella questa palette questa qui di zoeva e poi ragazze niente le ultime che ho acquistato che vi ho fatto vedere anche negli haul ho preso la secret palette di nabla eccola qui queste proprio le ho acquistate neanche da un mese ecco la secret palette di nabla palette di nabla devo dire che mi piace molto ho utilizzato per adesso solamente gli ombretti quelli che di cui parlava mister daniel dicendo che si possono fare dei trucchi molto semplici in velocità ho utilizzato questo 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 devo dire non mi si infilano nelle pieghe e mi piace l'effetto che mi fanno sulla palpebra luminoso ma non mi evidenziano quello che non ho perché l'ombretto chiaramente se c'ho il segno non è che l'ombretto mi può far togliere il segno però non mi devono evidenziare e far venire rughette che non ho cioè quelli di Natasha Denona proprio le crepe che non ho non mi trovo eppure dicono tutti che sono dei buonissimi ombretti però io sinceramente ragazza non mi trovo perché comunque la mia è una palpebra matura di una donna di 52 anni l'ho sempre avuta un pochettino segnata non so magari se avessi usato questi ombretti 15 anni fa sarebbe stato diverso però adesso non mi ci trovo per cui non 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 mi ci trovo ecco non mi venivano più le parole poi le ultimissime che ho acquistato sono questa qui di Lancome queste non le vedo recensire da nessuno e ho acquistato questa bellissima paletta che vi ho già fatto vedere sui toni del viola ci ho provato a fare un trucco però non ve l'ho fatto vedere cascata la palettina vabbè poco importa comunque questa bellissima cioè bellissimi colori poi allora magari ecco gli ombretti non sono super scriventi però secondo me quando si ha la palpebra matura è meglio che l'ombretto non sia troppo troppo scrivente cioè perché il trucco deve essere delicato ecco io poi non sono una truccatrice non mi intendo però noto che questi ombretti che sono un pochettino più delicati meno scriventi mi segnano meno la palpebra e poi l'ultima che ho acquistato di Charlotte Tilbury l'ho acquistata neanche due settimane fa tre settimane fa questa qui la Super Nudes questa qui l'ho utilizzata solamente una volta mi è piaciuta moltissimo e sono felicissima di averla acquistata anche perché è molto compatta a me piacciono ecco le palettine così molto compatte molto easy perché appunto mi trucco per andare in ufficio da utilizzare in velocità la mattina molto bella sono felicissima dell'acquisto quindi di certo non la declattero e poi le ultime palette di Diego Dalla Palma che ha fatto uscire ho acquistato queste ve le ho fatte vedere la nebulosa con questo assolutamente ci voglio fare un trucco perché è stupenda questa palette con questi colori stupendi con questo viola questo pure viola viola satinato cioè questo forse è uno shimmer questo questo è un opaco per la piega questo colore che si chiama Astro Astro Homer qualcosa del genere questo galattico questo blu cioè questa palette è stupenda perché Diego Dalla Palma ha fatto queste palette appunto che si credo che si si ispirano alle costellazioni bellissima questa sicuramente ci farò anche 3D anche se non me lo chiedete o comunque la utilizzerò e poi le ultime due di Diego Dalla Palma le ho acquistate entrambe la cool la nuda cool bellissima anche questa stupendissima palette eccola qui stupenda questa già l'ho utilizzata allora devo dire che su di me per quanto riguarda mi piacciono i toni freddi il viola i rosati eccetera per quanto riguarda i nude preferisco i toni caldi su di me però devo dire che rispetto alla glam di Natasha Denona questa comunque mi piace molto di più la resa degli ombretti shimmer sulla mia palpebra nel senso che non mi fanno sembrare più vecchia di dieci anni di quello che sono già quindi questa stupenda questa palette ve l'ho fatta comunque vedere nell'ultimo haul e poi oggi fresca è arrivata la warm perché mi è piaciuta talmente tanto quella che ho detto no devo avere anche la warm poi l'ho trovata a un buonissimo prezzo su un sito le ho pagate 25 euro queste ed ecco qua la warm completamente in tonza perché mi è arrivata praticamente due ore fa ecco ragazzi queste sono tutte le mie 36 palette accumulate negli anni penso che quella di Sleek potrà avere più di dieci anni come palette la prima che vi ho fatto vedere poi man mano negli anni appunto non avendo fatto del decluttering le ho accumulate adesso non ho contato quante ne vendo e quante ne declattero però secondo me forse una decina quindi su 36 me ne rimangono comunque 26 che sono tantissime niente voi fatemi sapere se vi va con quali palette volete che io mi trucchi che faccia i get ready with me poi io chiaramente ne tengo conto e li comincerò appunto a fare con tutte le richieste che voi mi fate niente spero di avervi tenuto compagnia con questo video sentiamoci sempre nei commenti come al solito io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video ciao a tutte e a tutti ciao a tutti